Si è svolto presso l'Istituto Tecnico Economico a Lighieri di Cerignola l'apertura del primo meeting europeo Erasmus Plus Project. L'introduzione è avvenuta con gli inni dei paesi europei partecipanti, Italia inclusa, e quello dell'Unione Europea. I saluti ufficiali sono stati portati dal dirigente scolastico Salvatore Mininno e dall'assessore alla cultura del comune di Cerignola Giuliana Colucci. Nel corso del suo intervento il professore Mininno ha spaziato su diversi temi, dal successo dell'Expo alle tensioni sociali nei paesi balcani ed alle finalità del progetto stesso, ossia creare un canale web tv con sinergia sulla domanda tra offerta e lavoro italiani ed europei. L'assessore alla cultura Giuliana Colucci nel suo intervento, oltre ad essere ritornata nella scuola dove ha fatto la preside per qualche anno, ha messo in evidenza come questo sia uno straordinario evento da tenere in considerazione e che per questi quattro giorni saranno protagonisti l'Italia e l'Europa. Minmo Siena, speciale news dall'Istituto Tecnico Economico Alighieri, Cerignola, Vojau.